pillola di caon numero 16 da qui in poi iniziamo il sistema ternario naturalmente iniziamo con la terzina che è la figura madre di questo sistema la terzina è una cellula ritmica che abbiamo importato dall'africa e che è rappresentata da tre note equidistanti all'interno del movimento alterno una battuta in quarti e una in terzina vado ad eseguire adesso un ritmo con le basse con le alte applicando appunto la terzina